e che c'entro io cuce e bottega per me sono tutti i mali lo diceva anche Dante Alighieri se manca il tiri 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 son giorni neri tiri 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 e perciò a Filenzio ne uno fa d'amor col tiri 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 e pensi che gli basti cambiarsi la maglietta perché lui è un ospito oh e stasera dove tu vai? a letto tu vedrai deve essere successo qualcosa di grosso e più non dimandare ambulanza dove mi portate? piazza San Salmo come? per che cosa? guida il popolo cristiano il popolo prediletto da Dio allora a te tu ne metti lì il divieto bisognerebbe tu te lo ficcassi nel cervello bene 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 a scansio di equivoci benedifico tutti i calciatori e questa trasmissione sia lodato Gesù Cristo sempre sia lodato perché il tiri 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 ti perché il tiri 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 ta a Firenze lo sanno fa ma pensa il successo ormai tu sei una star chiarugi Cavallo Pazzo numero 11 Antonioni Capitano numero 10 Questa sì che sarebbe stata la squadra migliore Motore 16 parco Iniezione diretta 4 vie turbo elettronica Ah, lei è il vecchietto di Firenze Vecchietto Come lì no? Vabbè vengo, si te lo fa vedere io Ma lei è proprio un bel giovanotto Noi ci aspettavamo un nonno Vorrei dire un'ultima cosa A differenza di chi ci ha preceduto al governo E oggi siede nei banchi dell'opposizione Queste non sono le solite parole al vento Ma saranno fatti e fatti concreti Grazie a tutti